E' un momento importante quando c'è una donazione? Sì, è un momento importante e fondamentale direi per un'organizzazione di volontariato perché ci consente di sostenere quelle spese che magari in situazioni in mancanza di una donazione potrebbero essere difficoltose. A che cosa serviranno? Questa donazione che ci è stata fatta dal Lions Club a Rezzo Nord-Est servirà a coprire le spese sostenute per l'acquisto di un monitor multiparametrico che viene utilizzato quotidianamente nelle attività di ambulanza di emergenza 118. Come dice il nome, multiparametrico ci consente di rilevare molti parametri e trasmetterli direttamente alla centrale 118 dove un medico li potrà valutare in tempo reale. L'Rezzo Nord-Est è un club di servizio e siamo sempre molto sensibili e vicini alle richieste che vengono dal territorio e degli operatori che sul territorio fanno la loro azione. Da anni abbiamo collaborazione con la delegazione di Arezzo della Croce Rossa e quando il presidente Gradassi ci ha prospettato l'esigenza di incrementare la loro dotazione con questo macchinario abbiamo subito pensato di offrire una nostra collaborazione con una contribuzione sensibile per l'acquisto di questa attrezzatura. Io come fondatrice del Lions Nord-Est sono felicissima perché dopo di me, come vedete, i presidenti continuano ad elargire beneficenza a favore delle istituzioni e sono veramente entusiasta di questo. Grazie. 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 Grazie.